Andrea Lupo, coordinatore responsabile della scuola Calcio Acli, va in archivio la 26esima edizione del torneo di Corpus Domini, vinta dal Monopoli. Che bilancio puoi trarre? Sicuramente un bilancio positivo, 26 edizioni sono tante, quindi è difficile mantenere sempre lo stesso ritmo quando una manifestazione è già così consolidata e ben conosciuta. Quest'anno è abbastanza dura perché l'evento è arrivato tardi, il Corpus Domini è arrivato molto tardi come festa religiosa, noi ci siamo appoggiati alla domenica precedente e tutto sommato abbiamo ricevuto un alto gradimento da parte delle squadre ospiti che sono venute in massa, sono venute con tanti genitori che hanno visitato la città, abbiamo ricevuto tanti complimenti perché anche nelle strutture alberghiere ristorative che li hanno ospitati sono stati bravi. L'obiettivo si sa è quello di mettere in mostra ai giovani i possibili talenti, abbiamo visto tanti 2004, tanti 2005, se possibile faccio un riferimento a un gesto straordinario, visto proprio in finale da parte del numero 11 Tataru del Monopoli che ha fatto una rovesciata straordinaria. Quindi in questo senso credo che anche questo obiettivo di trasformare il torneo in una vetrina sia stato centrato, portato questo esempio. Sì sì, l'esempio è calzante, anche il riferimento alla vetrina è calzante perché comunque oggi erano presenti diversi osservatori di squadre di serie A, serie B e serie C che per noi è una cosa comunque gratificante. Vedere persone che comunque contano in ambito giovanile per quanto riguarda il calcio, che vengono a Camobasso, che vengono in Molise, che è un po' un'isola un po' lontana da tanti palcoscenici, è solamente un complimento. L'attaccante del Monopoli, che è anche il loro capocannoniere, ha fatto già un campionato nazionale con il Monopoli e si è messo già in vetrina. Mi auguro che per lui ci sia un futuro roseo, così come mi auguro che anche qualche ragazzo molisano possa aver avuto l'input giusto per farsi vedere, per mettersi in mostra. Ci sono i presupposti ovviamente per una nuova organizzazione, la numero 27, adesso ovviamente è presto per pensarci, però relativamente perché poi sappiamo il tempo e le energie che ruba l'organizzazione di questo torneo. Ma guarda, a me piace organizzare gli eventi, quindi per quanto mi riguarda personalmente sono all'opera già da domani, con le riflessioni su quello che è andato e su quello che non è andato, l'entusiasmo c'è, lo staff c'è, la società batte e quindi siamo contenti di questa manifestazione e già da domani si immagina la successiva che sicuramente verrà fuori.